Una buona serata dalla redazione di Teletruria, questo è l'appuntamento con le nostre ultime notizie, cominciamo dall'assemblea di AISA con temi caldi all'ordine del giorno, quella che si è svolta oggi, i temi importanti soprattutto sulle novità energetiche per le quali, ha commentato il presidente di AISA Giacomo Cherici, non devono esserci incertezze. Parliamo anche della giostra del Saracino di Arezzo al via la vendita dei biglietti per l'edizione di giugno, il click day online è fissato per giovedì prossimo 9 giugno dalle 15 alle 18. Infine in Valdichiana la Querelle nata fra Comune di Cortona e l'associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Cortona riguarda il futuro di un complesso sportivo chiuso ormai da qualche anno nella zona del Parterre e ovviamente ci sono state appunto botte risposte da parte del Comune e dell'associazione sportiva. È tutto per le nostre ultime notizie, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.